Ciao a tutti bentornati in un nuovo video, oggi voglio iniziare subito questo video perché questa notte non ho dormito per pensare ad un progetto che in realtà ho nel cassetto da tantissimi anni, però non ho mai deciso di iniziare perché comunque non è una cosa veloce da fare, ho sempre pensato, voluto e l'idea in generale era quella di fare una cosa veramente figa, fatta bene, eccetera, non a caso, non si tratta di una cosa nuova, è già stata fatta da altre persone, ma io ho sempre voluto realizzare la mia. In tanti me l'avete chiesto e da oggi si inizia con un progetto molto interessante. Allora, come potete vedere qui ho un pannello che è un ripiano di una scrivania in vetro, vetro temperato, dimensioni 120x55. Per chi magari è stato un po' più attento avrà riconosciuto che questo è il pannello di una delle scrivanie che avevo a Venezia tanti tanti anni fa e in alcuni casi si vede anche magari nel video delle postazioni di miei ultimi dieci anni. Come molti di voi sapranno io sono stato conosciuto inizialmente su YouTube come il tizio della scrivania, quindi voglio portare questa serie dove andrò a realizzare un pc all'interno di una scrivania e no, non è una cosa assolutamente nuova, ma voglio farla nella maniera più figa possibile o comunque voglio riuscire a farlo veramente bene. Questo pannello sarà la base del mio progetto e sarà la parte superiore della scrivania. Non ho ancora bene in mente come andare a realizzarlo completamente, ma voglio anche chiedere a voi e includervi per realizzarlo al meglio possibile. Io ho un'idea e adesso inizio a farvela vedere. Ho preso un po' di componenti, iniziamo subito dalla base, ovvero la scheda madre. In realtà questi non sono i componenti che andrò a mettere dentro all'interno, ma mi serviranno solo per cercare di capire come posizionare il tutto all'interno. Ovviamente voglio andare a inserire un impianto a liquido per il raffreddamento, ma andrò a raffreddare solo il processore, non la scheda video e poi vi spiegherò anche il perché. Mi piacerebbe mantenere la dimensione di questo ripiano, quindi 120x55, la profondità è leggermente bassa, ma possiamo farcela andare bene per ora. Per quanto riguarda la disposizione dei componenti, voglio andare a sfruttare tutte le parti dove non ci sono questi supporti che mi serviranno per andare a fissare il vetro alla scrivania. Ho già in mente più o meno come fare, ma vedremo in corso d'opera come effettivamente renderlo il più stabile e al meglio possibile. In questa zona invece, come potete vedere, non c'è un supporto della scrivania ed è dove noi andremo a lavorare principalmente. Vorrei posizionare la scheda madre in questa zona in modo da poter effettuare un foro nella parte posteriore e poter sfruttare gli input e output senza bisogno di prolunghe. Lo stesso vale per la scheda video che mi piacerebbe andare a posizionarla a fianco in questa zona, utilizzando un RISE PCI Express per portare la connettività. Per quanto riguarda l'alimentatore, prendetelo sempre come esempio, non sarà questo l'alimentatore definitivo, mi piacerebbe posizionarlo in questa zona in modo da poter effettuare un passaggio dei vari cavi il più comodo possibile, andando a creare dei cavi sleeve avendo il minimo avanzo possibile fissando tutto al meglio. Infine rimane il raffreddamento a liquido con il radiatore che vorrei posizionare vicino alla scheda video, per come ho già più o meno in mente di realizzare il loop. Per quanto riguarda la pompa stavo pensando di posizionarla in questa zona o questa, per poi andare a lasciare dello spazio per gli hard disk. Prendiamo intanto come ipotesi questa per vedere un attimo come potrebbe svilupparsi il loop. Principalmente vorrei raffreddare solo il processore per quanto riguarda un fatto di espandibilità, in questo modo potrò andare a cambiare comunque abbastanza semplicemente i componenti. Per quanto riguarda la scheda video vorrei utilizzarne una blower style in modo da non andare a influire con la temperatura interna e espellere tutto il calore nella parte posteriore. Per quanto riguarda il loop vorrei realizzarlo il più semplice possibile, quindi prendiamo come ipotesi di partire dalla pompa andando direttamente al radiatore, dal radiatore passare alla CPU, dalla CPU rientrare nella pompa con la tannica di riserva. Quindi andando a utilizzare il minimo possibile quasi di tubi, ne andremo a utilizzare tre in questo caso, quindi uno sarà così, un altro dovrebbe essere più o meno come questo e uno verso l'alto. E qui infine andare a posizionare lo storage fisico che potrebbero essere due hard disk. Questa intanto è l'idea di base, però non è assolutamente definitiva, anzi, e i componenti che avete visto in questo momento non sono quelli che vorrei utilizzare per questa configurazione. Mi piacerebbe utilizzare come componenti principali un 9900K e una 1080 Ti in modo da poterlo rendere anche un eventuale Hackintosh. Sono andato a realizzare un paio di foto dall'alto per vedere un attimo come posizionare i componenti e voglio farvi vedere un minimo di come potrebbe venire questa configurazione. Allora, partiamo subito dal primo componente che si nota un po' di meno, ovvero il Rise PCI Express che passerà sotto la scheda video in modo da poter far comunicare la scheda video e la scheda madre. Passiamo poi ai cavi sleeve che saranno due principalmente, quindi uno per la scheda madre e uno per la scheda video o due, dipende appunto dalla scheda video. Per quanto riguarda la colorazione, in questo caso l'ho fatto un attimo arancione per vedere un po' come poteva venire, ma sono parecchio indeciso. Stavo pensando di utilizzare dei cavi bianchi e neri in modo da poter andare poi su tutto il bordo della scrivania a posizionare dei LED RGB, possibilmente addressable, configurati direttamente con la scheda madre. Proprio una cosa, avete presente, di quelle non pacchiane, non tamarre a modi di giostre, proprio sì esatto così. E ho paura che con cavi e liquido arancione non ci stia benissimo, ma bisogna vedere. Per quanto riguarda i tubi, sono andato anche qui a effettuare una sorta di prova e sono andato a posizionarli in questa maniera. Questo dovrebbe essere più o meno il risultato. Sono sincero, però non sono ancora convinto del posizionamento, più che altro della pompa. La pompa stavo pensando di posizionarla più in basso, come avevo detto poco fa, e andare a mettere qui sotto i due hard disk. In questo caso la pompa poi sarebbe anche molto vicino alla parte di supporto. Non che sia un grosso problema, ma preferirei averla in questa zona. Questa è la mia idea attualmente. Fatemi sapere, vi lascerò in descrizione magari questa foto o le varie foto, e se volete fare delle prove o posizionare altre cose o disegnarle, come preferite, fatelo tranquillamente. Taggatemi su Instagram con degli esempi e assolutamente ne farò tesoro. E poi sempre su Instagram andrò a fare magari dei sondaggi per scegliere l'opzione più scelta appunto da voi, o quella che vi piacerebbe di più vedere. Per quanto riguarda la dimensione della scrivania, come vi ho detto, mi piacerebbe mantenere questa di base, quindi 120x55. La profondità purtroppo non è incredibile. Diciamo che è al limite del utilizzabile, a mio parere, perché poi non c'è proprio più spazio fisico tra tastiera, mouse o quello che è. Questa ad esempio è una scrivania da 80 cm, quella che utilizzo per tutta la mia posazione è da 60, e già quella da 60 non è proprio il massimo. Però per rendere il più compatto e semplice possibile questa scrivania, penso che me la farei andare bene comunque. Oppure l'idea potrebbe essere quella di prendere un ripiano più grande, magari tipo 150x60 o qualcosa del genere, e andare a ritagliare praticamente la zona del vetro per posizionare all'interno, insieme a tutti i vari componenti in questo modo. Questa potrebbe essere sicuramente una scrivania più sfruttabile, utilizzata come postazione di lavoro fissa, ma ovviamente anche molto più ingombrante. Inoltre mi piacerebbe mantenere l'altezza della scrivania il più bassa possibile, e vi assicuro che già mantenendo l'altezza dell'alimentatore il minimo viene di 10-15 cm, quindi non poco. Mi piacerebbe anche nella parte frontale avere un profilo di vetro, in modo che non solo da sopra si possano vedere, ma anche da davanti. Quindi, questo video era solo per presentarvi un attimo la mia idea, e farvi vedere questo progetto che ho in mente da tanto tempo. Fatemi sapere voi però che cosa ne pensate e che cosa vi piacerebbe vedere. Andate pure nel dettaglio coi consigli, perché sicuramente saranno utili e faranno comodo. Poi ovviamente cercherò di realizzarlo il più semplice possibile. In descrizione vi lascio tutti i vari link dei social, e soprattutto quello di Instagram, per andare a consigliarmi, per andare a taggarmi nelle foto di consigli, o esempi, o quello che volete. Trovate anche il link del sito BlinkMyPC, dove potete trovare anche le magliette o tutto quello che volete. E direi che da Blink è tutto, e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao! Ah, comunque colgo anche l'occasione per dirvi che tra qualche giorno io partirò per Taiwan, per ovviamente la copertura del Computex. Prima della partenza e anche dopo, fatemi sapere se vi piacerebbe vedere qualcosa in particolare, sia durante la fiera, che prima, magari per quanto riguarda l'attrezzatura, come ho fatto gli anni precedenti, oppure se volete avere qualche altro dettaglio, se vi piacerebbe vedere dei vlog, o qualsiasi altra cosa. La seconda parte di questa serie, andrò a registrarla prima della partenza del Computex, e voi dovreste vederla, non appena avrò finito di pubblicare tutti i video della copertura. Quindi ci sarà assolutamente tutto il tempo per vedere e studiare bene questo fantastico progetto. Vi ricordo che abbiamo lanciato BlinkMyPC.it, il sito perfetto per trovare il vostro nuovo computer. Sia che cerchiate una configurazione già pronta, sia che vogliate realizzarne una su misura per voi. Trovate il link in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.